Ciao! Buongiorno, buonasera ormai. Chi è quello che ti sta filmando, è un tuo amico? No, però ormai ho fatto amicizia con tutti qua fuori. Sisco, ho un nome storico Sisco. Eh sì, ce ne sono parecchi. No, c'era il Sisco Colacino, quello che è diventato famoso in Sudafrica, che ha fatto il documentario. Anche lui, o sennò il cavallo di Ballaco e Lupi. Si chiamava Sisco Colacino. Eh, come il cantante dei Modena Setiretti. Di dove sei Sisco? Eh, a Rona sul lago maggiore provincia di Novart. A Rona? Sì, però originario del Brasile, Fortaleza, nord del Brasile. Come mai sei qui? Eh, mi hanno adottato quando avevo un anno e mezzo, sì. Ma ci torno ogni tanto giù? No, no. Eh, non sento quel... La Saudaci è famosa. Non sento? Eh, perché si vede che ero troppo piccolo e i miei, sono italiani, poi hanno paura di volare, quindi non credo che... Non sei mai andato in Brasile? No, però mi piacerebbe ritrovare qualche ritmo. Eh, certo. Sì, magari da aggiungere anche nelle prossime canzoni. Non si sa mai. Cosa mi fa ascoltare Sisco? Allora, ho sentito che non c'è più il sole, si trova anche nel mio primo epifato homemade. Vai. Piove così su questo grigio asfalto. Piove così e io mi sento stanco. Piove, ma si sa, tutto questo un giorno finirà. E dentro me tutto mi sembra più buio, più buio. Piove così e io mi sembra più buio. Piove così e io mi sembra più buio. Non piove più, svanisce ogni rumore. Non piove più, si alza un po' di vapore. L'acqua che c'era ora è nascosta nel mare. Le lacrime sulla mia pelle si stanno per asciugare. Il tempo poi saprà legare il mio dolore. Qui non c'è più luce. Qui non c'è più luce. Qui non c'è più sole. Più sole. Vanno via le nuvole. Con l'arcobaleno non solo il cielo. Ma ora anch'io sono più sereno. Con la pioggia non si spegne il sole. Ora voglio più calore. Non si muore per amore. Non si vive senza sole. Non si muore per amore. Non si muore per amore. Non si muore per amore. E porta nuova luce. Fuori dentro me. Qui non splende il sole. E porta nuova luce. Anche dentro me. Sole non andare via. Odio questa nostalgia. dentro me. Allora, la prima impressione è che è un po' troppo lunga. Cioè hai messo troppe cose. Cioè hai messo due ritornelli qui. Poi il sole. Hai capito? Sono stonato quindi. Quindi devi accorciare. Tagliare. Ok? Poi il resto va bene. Cioè nel senso che. Però è lunga. Togliere. Togliere. Non è immediata. No. Cioè devi solo non andare via. POM. Cioè devi accorciare, asciugare tutto molto. Sintetizzare molto. Va bene. Poi tu che cosa fai nella vita? Adesso suono. C'ho diversi gruppi. Quindi. E cosa fai con tutti questi gruppi? Riesci a vivere con tutti questi gruppi? Sì. Per ora sì. Perché non facendo canzoni mie purtroppo. Cioè che canzoni fai? Facciamo un gruppo che si chiama music medley story. Quindi facciamo medley dei Beatles. Piuttosto che Pink Floyd. Che Vasco Russo così. E facciamo i matrimoni. Facciamo i locali. Quello va benissimo. Va tutto benissimo. I matrimoni pagano molto devo dire. Però per quello va bene. Poi a tempo così sono un varista cameriere e faccio qualche extra. Però la principale è suonare, fare live. Ho anche un gruppo hard rock. Però canzoni mie purtroppo raramente si riesce a trovare dalle mie parti. Bene. Allora. Perché di dove sei tu? Di Arona. Di Arona sì. Però vedi, vedi, quello che ti dico è questo. Che media le due cose. Cioè crea uno spettacolo dove fai delle cover perché la gente non è abituata a scoprire cose nuove. Ma dentro ci metti dei brani tuoi. Comincia a mediare. Comincia a testare questi brani con la gente. Ad esempio se tu questo brano te lo fai in pubblico ti accorgi che dopo un po' l'attenzione cala. E lui dice cavolo non hai bisogno di venire ai droni. Te lo dice il pubblico, lo guardi e lui ti dice allora qui devo tagliare un po' eccetera. E poi dopo questo fa sì che se tu insisti ti fai il tuo bel disco come questo. Hai capito? E te lo vendi ai concerti. Esatto. Questi sono... Non c'è più il sole esatto. Sì. Francisco. Capito? Tu ci siamo i Francisco Festa Rovera. Sì. Un altro Cisco. Un altro Cisco. Questo devi fare. Sì. Capito? Diciamo che la copertina non è stampata bene la foto. È tutto meglio. Tutto molto così. È casareggio. Però secondo me devi fare un disco vero. In futuro il sogno è fare un vinile in futuro. Però per adesso è un bel cd vero. Capito? Il prezzo è quello di neck bianco. È bellissimo. Beh. Quello lì sì. Bello. È originale. Questo te lo lascio. Ti ringrazio sicuro. Grazie a te. Grazie. A presto. Ciao.